Nella mia vita ci sono sempre state tre grandi passioni, la scrittura, la musica e ovviamente la moto. Oggi scrambler è una parola molto usata, tra le proprie origini dagli anni 50, dagli Stati Uniti in particolare, quando i farmers del Midwest avevano bisogno di andare avanti e indietro per le loro piantagioni, spesse volte volevano farlo in moto. Non c'erano ancora le moto da cross, si prendeva una moto di serie e la si trasformava, la si mischiava, to scramble. È un po' come ho fatto io con la mia vita. Per vent'anni ho fatto il banker, prendendo aerei, andando a Londra, New York, Milano. È stato un periodo molto divertente, però anche quello a un certo punto è cambiato, come è cambiato tutto il mondo attorno a me. Dal di fuori mi è arrivata una grande opportunità per scrivere e per inventarmi un programma a televisione. Da lì ho messo insieme tutto quello che sapevo, delle moto, dei viaggi e della scrittura. E ho incominciato a fare un nuovo mestiere, un mestiere che è collegato alla fantasia, al piacere di raccontare, al piacere di vivere esperienze. Le mie esperienze sono tutte collegate alla moto e la moto è diventata la mia nuova vita. Ciao, sono Roberto Parallo, sono uno scrittore e un viaggiatore.